Salve a tutti, oggi vi mostro un modo semplice e veloce per piegare il tovagliolo di carta o anche di stoffa e inserire all'interno le posate. Creeremo infatti tre tasche in cui inserire la forchetta, il coltello e il cucchiaio. Mostro subito come realizzarlo perché è veramente molto semplice e potete utilizzarlo in molte occasioni. Prendiamo il tovagliolo e lo apriamo. Lo pieghiamo prima a metà. Lo ripieghiamo a metà. Facciamo una piega diagonale con il primo velo del tovagliolo. Marchiamo la piega e creiamo la prima tasca. Prendiamo il secondo velo del tovagliolo, inseriamo la punta all'interno della prima tasca e marchiamo la piega. Abbiamo così creato la prima ed anche la seconda tasca. Infine prendiamo il terzo velo del tovagliolo, pieghiamo, quindi marchiamo bene la piega e abbiamo creato così la terza tasca. Capovolgiamo e chiudiamo la tasca laterale. Ripieghiamo ed ecco pronto il nostro tovagliolo ad accogliere. Forchetta, coltello e cucchiaio. Non è semplicissimo? Mi auguro vi sia utile. Approfitto di questo video per farvi tantissimi auguri di buon anno. Spero il 2016 sia un anno molto creativo per voi e anche per me. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando pollici in su e condividete. A presto e auguri! Ciao ciao!